Musica Musica Assolutamente tanto, diciamo il teatro non l'ho mai lasciato, non è che torno al teatro, non l'ho mai mollato perché è la mia ragione in teatro, per cui faccio l'attrice e mi fa molto piacere venire per la prima volta al teatro L'Iseo con questo nuovo teatro L'Iseo che, come dire sempre, è grazie al canale che ci sono e quindi dobbiamo avere una prospettiva di grande vitalità che è fondamentale per il teatro, detto questo mi piace molto che abbia dato spazio alla nuova trama giuria italiana che non è tantissima ma ci sono autori di grande pregio come per esempio Vittorio Franceschi che io conosco da quando sono andata perché ho iniziato a scrivere con il tempo scritto da lui e studiando la scuola della Galante Garmone che era anche sua mamma moglie, quindi una strana uno strana come dire, ritornare alle origini e il testo è molto divertente però parla di, diciamo, i tipi italiani vuoi dire un po' al limite dell'altro alla pazza e il gran vignolo come dice il titolo, quindi il dato su sangue in qualche modo ma sangue che poi si scoprirà, come dire, meglio di fuori da... da delle possibilità, da parte che è la protagonista questa misterina, carnerierina a servizio da sempre a questi padroni di casa grazie